paola caruso celebra il grande giorno festeggia i cinque anni del figlio michelino a sorpresa al party di compleanno c'è anche il padre del piccolo francesco caserta la showgirl 39 n bonus di avanti un altro non lo chiarisce ma dopo anni di lotte sembrerebbe forse essere tornato il sereno con l'ex pace è fatta la calabrese si mette in posa con michelino e i parenti un compleanno super in tutti i sensi scrive sul social siamo arrivati a cinque anni sembra ieri che ti ho sentito tra le mie braccia per la prima volta ne abbiamo passate tante troppe ora solo tanta gioia e felicità ti amo alla follia c'è anche lo scatto in cui il figlio sta con il padre poi quello di famiglia tutti sorridono parrebbe davvero che l'astio passato sia solo un ricordo eppure la caruso ha dovuto lottare in tribunale affinché michelino fosse riconosciuto da caserta a verissimo parlando dei problemi legati alla salute del bambino che per tornare a camminare perfettamente è finito sotto i ferri e ancora fa fisioterapia aveva rivelato di aver vinto la sua battaglia in aula paola ad aprile scorso aveva detto sono felice perché era un diritto di mio figlio ho lottato e ce l'ho fatta ora non siamo più soli adesso se mi succede qualcosa michele non finirà in una casa famiglia perché gli è stata riconosciuta una famiglia vorrei solo che lui avesse qualcuno che lo ami a parte me si è accesa una luce che vorrei diventasse la sua famiglia sembrerebbe che il desiderio dell'ex naufraga sia divenuto realtà francesco 33 anni è lì con il figlio letto ha deciso di far parte della vita del pargolo grazie a tutti